Musica Ciao a tutti, sono già emozionata via di partire, quindi benissimo. Allora, iniziamo. Un esperimento condotto tra i paracadutisti e l'esercito ha dimostrato come la paura in chi si lancia per la prima volta raggiunga il culmine quando nella carlinga dell'aereo appare la scritta pronti. In questo momento, se ci pensate, ancora la persona non si sta lanciando, non sta affrontando i reali pericoli della caduta. Nonostante questo inizia a pensare a tutti quelli che sono i rischi, i pericoli e quindi l'ansia aumenta. La cosa curiosa è che questa ansia si riduce proprio nel momento in cui la persona si lancia. Quindi non può più tornare sull'aereo, non può più cambiare idea. Però nonostante questo inizia a godersi l'esperienza e la sua paura, senza neanche pensarci, si riduce. Perché vi sto parlando di questo? Perché questo è un po' quello che è successo a me quando ho deciso di entrare a far parte della community di WordPress. Io infatti sono una libera professionista che abita in un piccolo paese di provincia e all'epoca lavoravo anche da casa, quindi non conoscevo quasi nessuno nell'ambito web e per di più nell'ambito WordPress. Avevo però voglia di partecipare ad un evento e conoscere altre persone, diciamo, nel mondo di WordPress. E quindi, navigando su Google, ho scoperto che pochi mesi dopo ci sarebbe stato il WordCamp Milano 2017. Visitando il sito, ho scoperto che c'era la possibilità di partecipare come volontari e in particolare mi ha colpito questa frase «Aspettati di arrivare a sera, esausto ed euforico». Questa frase mi ha colpito e quindi, distinto, ho compilato il modulo per la candidatura. Quando, qualche settimana dopo, mi è arrivata la mail che ero stata presa come volontaria, la reazione è stata questa. Ossia, oddio, sono diverse tutte le mie paure. Mi sono detta «Ma io non conosco nessuno, sarà un gruppo già coeso». Quindi io, che di fatto l'ho detto spesso nei gruppi già formati come faccio a farmi conoscere, rimavo sicuramente in disparte, quindi mi annoierò tutto il giorno perché stavo lì, la pecorella nera da parte rispetto al resto del gruppo. E poi mi sono detta «Una community di WordPress sarà fatta solo da sviluppatori». Io, ok, lavoro con WordPress, però non sono una sviluppatrice, quindi non avrò niente da condividere con questo gruppo. E in terzo luogo mi sono detta «Ma mi sto candidando per fare parte di uno staff di un evento, ma io non so minimamente come funziona il diatore equito di un evento, quindi come posso essere utile?» E sarò d'intraccio, quindi sono detta «Ok, lasciamo perdere, mi faccio la parte da sola e non partecipo». Poi per fortuna ho avuto la voglia di provarci, mi sono detto «Ok, sono in ballo, balliamo ormai». E come potete immaginare, dal fatto che sono qui a Pallardio, ero stata l'evozione e ho fatto vari WordCamp come volontaria e come partecipante, ma la scelta è stata più giusta. Infatti nei due giorni di WordCamp fin da subito tutte le mie paure si sono ridotte, perché sono stata subito coinvolta nel gruppo, per questo devo ringraziare Simona Siviorato che mi ha fatto a chiedamento per questo talk, e tutto il gruppo, su inizio, e tutto il gruppo dei volontari e della community in generale di quel WordCamp Milano, che mi hanno fatto fin da subito sentire parte del gruppo, e anche utile con il mio ruolo e sapendo cosa dovevo fare all'interno del gruppo. E poi mi fa piacere anche che a progettare vi sia stata Carola, che è stata la prima persona che ho conosciuto di quel WordCamp Milano e che già dalla sera prima mi avevi coinvolto col tuo entusiasmo e ho detto «Ok, deve essere bello», perché era così coinvolta. Benissimo. Come sono andati quei primi due giorni? Di fatto il primo giorno di Contributor Day, che per chi non ha partecipato, c'è qualcuno che non ha partecipato ieri? Ok. Che non ha partecipato e chi è che non sa cos'è il Contributor Day? Ok, vabbè, così faccio senza spiegare cosa non è il Contributor Day, cos'è il Contributor Day. Il primo giorno di Contributor Day mi sono trovata davanti a tantissimi volti e anche concetti nuovi, cioè ad esempio i nomi dei tavoli del Contributor, sì, ok, capivo cos'erano, però erano tutti concetti nuovi. e nonostante questo, poi già il giorno successivo, il sabato, iniziavano ad essere più familiari e quando sono tornata a casa, un pochino mi sentivo già a casa in questa community, tant'è che ho preso subito il biglietto per partecipare al World Camp successivo che sarebbe stato a Roma qualche settimana dopo. La community mi ha talmente coinvolto e entusiasmato che ho deciso un anno e mezzo fa circa, insieme a Francesco Canovi, di entrare a far parte del Meetup di Reggio Emilia. Abbiamo deciso di rilanciarlo con la voglia di portare un po', un punto d'incontro in cui si ritrovasse questo spirito della community anche nella nostra città. E devo dire che fin da subito, per questo ringrazio, c'è solo anche qui, c'è la fotografa del Meetup ufficiale che fa tutte le foto e alcuni ragazzi che sono qui. Ringrazio anche Francesco perché fin da subito si è formato un gruppo coeso che anche in questo caso ritrova tutto quello spirito della community che avevo ritrovato nei WordCamp. E devo dire che se non avessi partecipato a quel WordCamp Milano 2017, non mi fossi lanciata a quel paracadute, avrei perso tanto. Avrei perso innanzitutto la possibilità di conoscere delle persone che ormai non sono conoscenti, ma sono amici, ormai famiglia. E avrei perso l'opportunità di tanti incontri e occasioni di approfondimento professionale. e in generale avrei perso la possibilità di un'esperienza che sta continuando a cambiare la mia vita personale e professionale. Quindi per chi in questa sala che prima avevo visto che c'erano tante persone nuove della community, ancora non la conosce, il mio consiglio è partecipate, anche solo per curiosità, un Meetup della vostra città, delle città vicine, oppure se volete iscrivetevi a Slack dove c'è il canale ufficiale della community, oppure anche a una pagina Facebook, a un gruppo Facebook di un Meetup della città che volete. E quando ho deciso di parlare di timidezza mi sono chiesta che cosa è effettivamente la timidezza. E ho scoperto che in psicologia non esiste un termine preciso per definire la timidezza. La definizione in cui mi sono ritrovata di più è questa definizione della Treccani, che in sostanza a mio avviso la timidezza è semplicemente la paura di affrontare una nuova esperienza, una nuova sfida. Per cosa? Per la paura di non essere all'altezza o la paura di non essere del giudizio degli altri. Però quello che ho capito dall'esperienza nella community di WordPress e in generale in tante esperienze della mia vita è che vale sempre la pena di lanciarsi da quel paratroduttore. Perché mal che vada ci sarà... mal che vada diciamo non avrete il rimpianto di non averci provato. Se va bene bene perché avrete un'esperienza che potrebbe cambiare la vostra vita come è successo a me per la community e in tante altre occasioni. Ovviamente come potete notare anche dalla bebozione e dal fatto che appunto ho fatto la speaker oggi dopo tante volte a cui ho rinunciato a provare ad essere speaker ad un WordCamp non è che questa timidezza sia scomparsa timidezza rimane ci sono tante sfide a cui ho continuato a rinunciare continuo a rinunciare tante occasioni che sto perdendo però il mio consiglio è se riuscite provate lanciatevi da quel paracadute lanciatevi con quel paracadute e poi vi lascio con questo pensiero di Mark Twain se riesco a cambiare la slide che penso che racchiuda un po' tutto il concetto. tra vent'anni non sarete delusi dalle cose che avete fatto ma da quelle che non avete fatto levate dunque l'ancora abbandonate i porti sicuri catturate il vento nelle vostre vele esplorate sognate scoprite grazie